Per generale, questo lavoro può essere inteso come una manifestazione proprio di questa visione che rinvia anche alle logiche dische, in quanto in modo legati al tema delle secessioni, penso per esempio in particolare alla secessione di Monaco nella Cantispecie. C'è un'opera che evidentemente, da un certo punto di vista, può apparire da tanto, per altro verso, invece, può essere anche intesa come un tentativo di proiettarsi verso una dimensione perfigurativa che raccoglie questo tema di secessionisti, però lo mangio verso altre più avanzate prospettive, sensibilità.